Per la categoria servizi giornalistici, cioè inchieste, dossier, dibattiti su problemi sociali ed attualità, le nominations sono Viaggio intorno all'uomo, Rai 1, Samarkanda, Rai 3, i dieci comandamenti all'italiana, Rai 1, consegno nel premio Giorgio Gaver ed Enzo Iannacci. Buonasera, buonasera, aspettano un attimo, avere Giorgio Gaver in televisione è una cosa rarissima, come mai hai accettato il nostro invito? Vengo qui a premiare anche l'altra volta, spero di premiare l'altra persona l'altra volta. Ah non lo sai chi premi però? Non ho aperto, per rispetto. Per rispetto. Siete pronti perché adesso dovete scappare via e andare al teatro Carcano, qui a Milano, dove debuttate con Aspettando Godot. Grazie. Anzi, siete in ritardo. Va bene, andiamo brevemente al punto. Vorrei sapere che reazione hai avuto, insomma, quale gioia hai sentito quando hai ricevuto il premio della critica per la tua canzone della fotografia a Sanremo. Beh, è stato un momento molto felice perché... Te l'aspettavi? Ma in parte sì, perché la critica è più grossa ma l'abbiamo fatta a Giorgio, l'abbiamo fatta sentire per prima a Giorgio. Per cui... E tu hai detto... È una canzone che non mostrava il fianco a nulla. Proprio così. È una cosa, una robaccia, una cosa seria che ha inchiodato la gente. Benissimo. Allora, inchiodiamo la gente con il vincitore anche di questa sezione. I dieci comandamenti all'italiano. Ritira il premio Enzo Biagi. Allora, voi scappate, vi faccio molti auguri, ciao, a presto, arrivederci, ciao Enzo, grazie mille. Buonasera, dottor Biagi. Oramai lei è abituato al telegatto? Beh, una piacevole abitudine. Quanti ne avrà? Otto. Otto. Un branco. Un branco. Senta, i dieci comandamenti all'italiana. Qual è il comandamento che le è più difficile da osservare? Non desiderare la donna d'altri. È pieno di energia, vedo che è un vero Emiliano, eh? La speranza non muore mai. Bene, io sono molto contenta che lei riceva questo premio, anche perché è molto carino con me sempre. Dice delle cose molto belle anche sulla mia persona, per cui la ringrazio molto. Complimenti per il suo nono telegatto, quindi. Auguri a lei. Va bene, grazie. A fra poco. Grazie. Grazie.